6 morti oggi correlate all'epidemia da Covid-19 nel Vicentino, 3 all'ospedale di Vicenza, 3 in quello di Sant'Orso, sono decedute 3 persone anziane che erano positive al tampone, un uomo di 89 anni, una donna di 90, di Asiago, un bastanese di 86. A San Bortolo sono deceduti 3 uomini, uno di 51 anni, Monticchio Maggiore, un 68enne di Gresignano, di Zocco, un 86enne di Gambellara. Calano nel Vicentino da 254 ieri a 242 ricoverati, diminuiscono quell'interapia intensiva da 30 a 29, un aumento di 30 unità i positivi, oggi sono 2.226, calano da 3.207 a 3.169 le persone in isolamento domiciliano.